Un nuovo impianto irriguo e idrovoro denominato Gambolo in località Carzaghetto a Cannetto sull'Oglio è realizzato dal Consorto di Bonifica Gardachiese che si è anche occupato della progettazione della direzione dei lavori svoltisi tra il maggio 2022 e il maggio 2023. L'opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento pari a 1,6 milioni di euro erogato dalla Regione Lombardia. Alla cerimonia del taglio del nastro sono intervenuti l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Beduschi, sindaci di Cannetto, Nicola Ficicchia di Casar Romano, Roberto Bandera ed Isola Dovarese, Giampaolo Gansi, il presidente del Gardachiese Aldo Bignotti col direttore Paolo Magri, il presidente di Coldiretti Mantua Paolo Carra e il presidente di Confagricoltura Mantua Alberto Cortesi. Tra le numerose autorità presenti anche gli onorevoli Cristina Almici e Andrea Dare e il consigliere regionale Alessandra Cappellari. Sarà una cosa davvero importantissima nel prossimo futuro quando i certificati verdi e il contenimento delle emissioni sarà assolutamente contrastato da iniziative come queste del florovivismo canettese che rappresentano un'eccellenza nazionale. Gli interventi realizzati dal Consorzio interessano il territorio di tre comuni, hanno un duplice obiettivo, la riduzione del rischio idraulico e il miglioramento del servizio riguo per la fetta di territorio posta all'estremità occidentale del comprensorio da sempre soggetta a scarsità di risorsa idrica. La costruzione di nuovi impianti idrovoro in grado di smaltire le acque di piena dello scolo gambolo verso il fiume Olio, quando quest'ultimo presenta livelli idrometrici tali da non permettere lo scarico a gravità delle acque meteoriche, diventa così molto importante. L'impianto consentirà di ridurre il rischio di allagamento per le zone ubicate a ridosso dell'argine maestro del fiume Olio con l'installazione di una nuova pompa idrovora. Ancora più importante, da considerare come un traguardo storico, la realizzazione di un nuovo impianto di riguo che potrà servire un territorio agricolo fino a 720 ettari, costituito da una nuova derivazione, mediante sollevamento meccanico dal fiume Olio in località Carzaghetto, da un impianto di rilancio ubicato a Fontanella Grazioli, a Casa Romano, per convogliare le acque del Gambolo fino al vaso Cannete e allo scolo Malongola, da qui a tutta la capillare rete di distribuzione in rigua. Durante la cerimonia c'è stato un significativo fuori programma, la consegna da parte del presidente Bignotti e del direttore Magri di un attestato di riconoscimento agli operai del consorzio, che nelle settimane scorse sono stati inviati in missioni in Romagna per aiutare i consorzi locali a fronteggiare l'emergenza alluvionale. L'applauso di tutti è andato a Mirco Tonelli, Roberto Rocca, Ernesto Moreschi, Roberto Zaninelli, Mattia Gorieri e Riccardo Dalmaso.